Allora, siamo all'ultimo argomento del corso, abbiamo ancora questa lezione, poi quella di martedì prossimo, alle 8.30, quindi non lunedì ma martedì, e in queste ultime quattro ore affrontiamo il problema classico della cristallografia che è quello della diffrazione, della teoria della diffrazione. Ma prima di entrare subito nel merito della teoria della diffrazione vediamo qualche motivazione che in realtà è importante e centrale. Allora, vi dico innanzitutto che questa parte non è sul libro di testo, però ho una dispensa scritta apposta per l'occasione, diciamo che uso sempre per gli studenti di scienza dei materiali, che vi carico poi a partire da oggi sul sito Moodle, quindi come materiale didattico di questa lezione e di quella successiva. Dove c'è proprio tutto scritto in dettaglio, quindi non preoccupatevi se non capite tutto adesso, oppure quello che sarà poi martedì, perché tanto lì è tutto riportato. È un argomento molto importante, quindi è parte integrante del corso, nel senso che poi all'esame ci sono sempre delle domande sulla diffrazione, però diciamo si divide in due parti, allora c'è la parte che vediamo oggi e la parte che vediamo la prossima volta. La parte che vediamo oggi, io ve la faccio, ve la discuto per farvi vedere il perché si arrivano certe formule, che cosa vuol dire fattore di struttura, tutta una serie di cose di questo genere, che però poi non chiedo all'esame, all'esame chiedo il risultato, non la parte di derivazione matematica, perché questo è un po' pesante, diciamo non pesantissimo, nel senso che voi avete tutti gli strumenti per comprenderla, per quello che avete fatto nel corso di metodi, e nel caso in cui delle cose non le abbiate fatte, tanto sulle dispense che vi do, non do niente per scontato, quindi qualsiasi cosa che uso, qualsiasi strumento matematico che adopero, ve lo spiego lì, quindi probabilmente l'avete già fatto a metodi, però io tanto ve lo ripropongo, quindi sui dispense trovate tutto quello che vi serve, quindi avete tutte le capacità voi, tutte le coordinate che vi servono per riuscire a studiare questa parte, però io non ve la chiedo, perché comunque fatta in due ore, un po' veloce, magari fatta alla lavagna, sicuramente renderebbe un pochettino di più, dedicandoci anziché due ore, magari dedicandoci un quattro ore, ma non molto più di questo, però non voglio appesantire troppo il carico di studio che già avete, non solo per i corsi di cristallografia, ma per i corsi di metodi, di fisica 2, insomma, di roba da studiare ne avete già tante, quindi questa ve la buona, però è importante che io ve la faccia vedere, perché altrimenti non si giustifica il perché si arrivano certe formule. Invece la parte che faremo poi la settimana prossima è più semplice dal punto di vista matematico, ma ci sono dentro alcune questioni, in particolare sulla geometria della diffrazione, che sono assolutamente essenziali, non potete uscire da un corso di cristallografia, se non le sapete, e poi comunque sono cose che vengono applicate in qualunque laboratorio andiate che fanno della diffrazione su polvere, su cristallo singolo, poi dirò alcune cose su questi aspetti. Allora, un po' di motivazioni, diciamo queste sono le motivazioni per spingervi a studiare in un certo modo, ma invece un po' di motivazioni sul perché è così importante la teoria della diffrazione in cristallografia. Allora, innanzitutto qual è il compito principale del cristallografo, cosa fa il cristallografo? Allora, al di là di osservare i cristalli, studiare la simmetria, anche la simmetria morfologica, classificarli, discutere delle strutture cristalline, delle proprietà delle strutture cristalline, una delle cose principali che viene chiesta al cristallografo e che viene chiesta, diciamo, allo scienziato dei materiali che si occupa di strutture, è quella di risolvere le strutture cristalline, cioè dire dove sono messi gli atomi all'interno di una data struttura. Risolvere le strutture, diciamo, ab inizio, partendo da una conoscenza nulla della struttura iniziale, quindi uno non sa assolutamente niente su come sono disposti gli atomi del cristallo dentro la cella e quindi poi nell'intero cristallo. Questa è una possibilità che si ha quando si ha a che fare con dei materiali nuovi che mai nessuno ha caratterizzato prima, uno non sa nulla della struttura e deve arrivare a dire dove sono gli atomi all'interno della cella. Questa è una possibilità che si ha, ma l'altra possibilità è di raffinare una struttura, nel senso, una struttura in realtà è nota, però è nota in modo un po' approssimativo, diciamo, uno sa che più o meno gli atomi stanno in certe posizioni, ma si vogliono avere delle informazioni più precise di dove sono esattamente e in quale composizione, quale occupanza sia da assegnare ad ogni sito cristallografico. Supponete di partire da una lega e di volere capire che come cambia la lega ferro manganese, volere capire esattamente o sapere esattamente come si dispongono gli atomi di ferro manganese all'interno della struttura per certe composizioni specifiche, quindi voi avete per esempio che è nota la struttura esattamente per quando c'è soltanto ferro, oppure quando c'è ferro con una percentuale di manganese del 20%, però viene chiesto invece cosa succede quando anziché avere il 20% di manganese avete soltanto il 10% e quindi vi chiedono di affinare la struttura, cioè di dire esattamente quali sono le occupanze dei siti e le coordinate atomiche all'interno della struttura cristallina per una situazione specifica, però per una composizione specifica. E allora qui non si tratta di risolvere ab inizio la struttura, nel senso che comunque più o meno la struttura sarà quella della lega ferro manganese qualunque sia la composizione del manganese, però si tratta di raffinare meglio le posizioni atomiche. Quindi in qualche modo sia nel caso di risoluzione ab inizio della struttura, sia nel caso di raffinamento strutturale, si chiama così, avete bisogno in qualche modo di guardare dentro il cristallo, quindi sapere dove sono gli atomi all'interno del cristallo. Allora noi sappiamo quali sono le dimensioni atomiche medie, sappiamo quali sono le distanze interatomiche medie, sono dell'ordine dell'Ermström, le dimensioni atomiche sono dell'ordine dell'Ermström e le distanze interatomiche vanno da circa un Ermström, un po' meno di un Ermström quando per esempio si parla di legami idrogeno-ossigeno, a 2,2.5 Ermström quando si parla di legami che sono calcio-ossigeno, potassio-ossigeno, cose del genere. Quindi abbiamo degli ordini di grandezza sulle distanze interatomiche e dire che risolviamo, raffiniamo una struttura, vuol dire andare a vedere dove sono gli atomi e quindi scendere alla scala dell'Ermström. Quindi dobbiamo andare a risolvere la struttura cristallina, a vedere con un dettaglio strutturale che sia dell'ordine dell'Ermström, 10 alla meno 8 centimetri. Quasi tutti i cristallografi, compreso il sottoscritto, utilizzano questa unità di misura, l'Ermström la utilizzano anche i chimici, anche se non è un'unità di misura del sistema internazionale, perché l'unità di misura più vicina dovrebbe essere il nanometro, che è 10 alla meno 9 metri, però si usa l'Ermström perché vi consente di esprimere le grandezze che volete in unità, quindi un punto di distanza interatomica, circa un Ermström, non 0,1 nanometri o cose del genere. E' più comodo usare l'Ermström, quindi siamo irriducibili, non ci pieghiamo alla volontà del sistema internazionale di usare il nanometro come unità di misura. Allora, tutte le volte che voi avete a che fare con una struttura, un oggetto che volete andare a dettagliare, quindi descriverlo in qualche modo, quel che fate è semplicemente osservarlo. Quando abbiamo degli oggetti macroscopici, per cui non abbiamo bisogno di utilizzare nessuno strumento per osservarli, semplicemente usiamo la luce, quindi se ci pensate un attimo, quel che succede quando dite che avete visto un oggetto, e che state descrivendo un oggetto che è fatto in un certo modo, e quel che sta capitando è un qualche cosa di piuttosto complesso, nel senso che a livello intuitivo è tutto molto semplice, guardo l'oggetto e lo vedo, e vedo dove sono messe i dettagli che mi interessa osservare. Però se ci pensate il processo di osservazione dell'oggetto è qualche cosa di piuttosto complesso, partono dei fotoni dal sole che vengono generati da reazioni di fusione nucleare, questi magari al centro del sole in giro di parecchie, non so quando il tempo medio di fuoriuscita di un fotone dal nucleo del sole verso la fotosfera è un tempo enorme, e quando questo poi rilascia la fotosfera arriva a terra, colpisce l'oggetto che voi dite che state osservando, interagisce in qualche modo con quell'oggetto, questo è un punto chiave, un'interazione della radiazione elettromagnetica dei fotoni con l'oggetto osservato, e questi rilasciano, questi vengono poi rilasciati dall'oggetto medesimo in tutte le direzioni, con certe caratteristiche, e colpiscono l'occhio, quindi il vostro cristallino, poi da lì vengono focalizzati sulla retina, sulla retina partono dei segnali elettrici che percorrono il nervo ottico fino al cervello, li vengono elaborati utilizzando una marea di altre informazioni, tutte le connessioni sinaptiche che avete nel cervello, e vi creano l'immagine in una data area del cervello di quello che è il vostro oggetto, quindi non è affatto una cosa automatica nel dire che avete visto un certo oggetto con dei dettagli, lo dico perché lo sottolineo perché poi non stupisca il fatto che anche il vedere i cristalli alla risoluzione atomica non è affatto una cosa automatica, ma questa non è una novità perché in qualunque processo di visione, con qualunque strumento che utilizzate per vedere, in realtà l'osservazione, la visione in sé, è un fenomeno piuttosto complicato. C'è un problema in tutto questo, c'è un problema che voi vedete, voi osservate gli oggetti usando una radiazione, che nel caso normale è la radiazione della luce visibile, quindi andiamo dai 400 all'incirca ai 700-750 nanometri, qui si usano effettivamente i nanometri. Tanti oggetti che vedete nei laboratori, che osservate nei laboratori, magari sono troppo piccoli per essere osservati a cosa si dice a occhio nudo, quindi se volete osservare dei dettagli che sono dell'ordine del micron, quindi siamo a 10 alla meno 6 metri, normalmente utilizzate un microscopio, quindi che cosa fate? Prendete il vostro oggetto, lo mettete su un portaoggetto di un microscopio ottico e il microscopio ottico ha delle lenti, quindi ha un sistema, per cui avete una lente obiettivo che cattura la radiazione che proviene dall'oggetto, la focalizza su un piano focale della lente, poi ve la proietta su un piano immagine e accoppiato al piano immagine della lente obiettivo e c'è il piano oggetto della lente oculare che vi porta poi sul piano immagine della stessa lente oculare l'immagine dell'oggetto ingrandita e l'ingrandimento è una funzione del rapporto che avete tra il diametro della lente obiettivo e il diametro della lente oculare, quindi se avete un obiettivo con un diametro molto grande e un oculare con un diametro molto piccolo, normalmente avete un elevato ingrandimento, e quindi voi riuscite a portare i dettagli a livello del micron del vostro oggetto che volete osservare a una scala per cui diventano visibili. Un problema fondamentale dell'ottica e quindi del fatto di vedere gli oggetti utilizzando microscopi o qualsiasi altro dispositivo atto allo scopo è che in realtà quello che riuscite a vedere a livello di dettaglio non può mai essere inferiore come dimensioni rispetto alla lunghezza d'onda della luce che utilizzate per osservare l'oggetto medesimo. Quindi se voi utilizzate della radiazione visibile, quindi siamo, vi ho detto, nell'ordine del centinaio di nanometri, quindi supponiamo prendere una lunghezza d'onda media dell'ordine che sono dei 500 nanometri, voi riuscite a vedere, a distinguere dei dettagli nei vostri oggetti che sono appunto dell'ordine, al più dell'ordine dei 500 nanometri. Se cercate di andare sotto, quindi cercate di andare a 50 nanometri o anche 100 nanometri, cominciate a non vedere, a non risolvere più i dettagli. Questo diciamo più che lavorare sul microscopico lo si vede per esempio quando si lavora invece sul macroscopico, per esempio se prendete i radar, quelli che sono installati per esempio sulle navi, i radar cosa sono? Sono dei dispositivi che funzionano utilizzando delle onde radio, quindi emettono onde radio nella direzione per esempio di una costa, immaginate una nave che procede verso una linea di costa e invia dei segnali radio contro la costa, quindi che ha un profilo roccioso, frastagliato in un certo modo, e la costa riflette indietro queste radiazioni radio che vengono ricatturate dall'antenna del radar e poi elaborate, e quelle che vedete utilizzando il radar sono dei dettagli della linea di costa che sono confrontabili come dimensioni alle dimensioni della lunghezza d'onda, della radiazione utilizzata dal radar medesimo. Quindi se il radar usa una radiazione con una lunghezza d'onda che so di 20 metri, quindi le onde radio plurimetriche, quello che vi torna indietro nel dettaglio sono i dettagli dell'ordine dei 20 metri, non vedete il sassolino sulla spiaggia, il radar non riesce a distinguere quel dettaglio lì, del sassolino, perché è troppo piccolo rispetto alla lunghezza d'onda impiegata dal radar, quindi vedete in quel caso lì, vedete dei dettagli che sono dell'ordine della decina di metri, è quello che serve poi al pilota della nave per evitare di andare a sbattere contro la costa, quindi si utilizza il radar, questo per dire che appunto il dettaglio che vedete dipende, il livello di dettaglio che riuscite a osservare, la risoluzione dipende dalla lunghezza d'onda della radiazione con cui illuminate il vostro oggetto, illuminate in senso lato, non si tratta di luce visibile nella maggioranza dei casi, ma lo irradiate diciamo con una certa radiazione. Per inciso parlo sempre, quindi faccio sempre riferimento alle radiazioni elettromagnetiche, ma in realtà uno può usare anche altre radiazioni, per esempio nel caso della cristallografia nei microscopi elettronici, quel che si usa nei microscopi elettronici sono fasci di elettroni con una certa lunghezza d'onda, voi ormai avete fatto meccanica quantistica sapete che ogni particella dotata di un certo impulso è associata ad una lunghezza d'onda, un'onda con una certa lunghezza, che è data da λ uguale a h su p, dove h è la costante di Planck e p è l'impulso della particella, quindi se voi accelerate elettroni ad una certa velocità all'interno del microscopio elettronico, questi sono associati ad una onda, che sono descritti da un comportamento ondulatorio, con un'onda, la cosiddetta onda di de Broglie, che ha una lunghezza d'onda, che ha proprio h su p, e quindi arrivate a lunghezza d'onda dell'ordine di anche un centesimo di Armstrong, se lavorate con elettroni veloci, accelerate la differenza di potenziale dell'ordine delle centinaia di kilovolt, e impiegate quello come radiazione per vedere i vostri oggetti, per vedere i vostri cristalli, in quel caso, nei microscopi elettronici. Ma lavoriamo con la radiazione elettromagnetica, torniamo su quella. Allora, vi dicevo, la luce è visibile e arriva fino a 400-350 nanometri, che è di diversi ordini di grandezza, tre ordini di grandezza rispetto alle più grandi, rispetto al dettaglio che ho fatto osservare, che è appunto dell'ordine di Armstrong. Quindi non c'è nessuna speranza di utilizzare un microscopio ottico per vedere all'interno di un cristallo dove sono disposti gli atomi, perché la lunghezza d'onda che si utilizza nei microscopi ottici è troppo elevata. Allora uno potrebbe pensare, ma perché non utilizzare una radiazione elettromagnetica di lunghezza d'onda più bassa? Cosa succede se io usassi, per esempio, dei raggi ultravioletti? Beh, raggi ultravioletti certamente scendono di più di lunghezza d'onda, quindi andiamo intorno, che so, ai 100 nanometri, no? Non è ancora la lunghezza d'onda che ci serve, perché ancora 100 nanometri è troppo elevata come lunghezza d'onda rispetto all'Omström. Però ci muoviamo verso la direzione di una maggiore risoluzione, no? E uno diceva, vabbè, ma in raggi ultravioletti in realtà non siamo in grado di vederli, no? Sarà bene che non andiamo a un microscopio ottico in cui mettiamo l'occhio su un oculare che va a osservare, diciamo, una sorgente di luce a ultravioletta, perché altrimenti ci fondiamo, no? Ci distruggiamo immediatamente la retina, no? Ma questo non è un problema, no? Non distruggersi la retina non è un problema. Diciamo che non è un problema perché al posto del nostro occhio possiamo mettere dei detector che catturano la luce ultravioletta che arriva e la convertono in qualche modo, cioè queste cose sono all'ordine del giorno, all'ordine del laboratorio, ci sono tanti dispositivi che convertono radiazione con una certa lunghezza d'onda in radiazione visibile, quindi mettiamo un detector al posto del nostro occhio sull'oculare di un microscopio che funzionasse con gli ultravioletti e potremo vedere quello che vogliamo, fino a dettagli dell'ordine dei 100 nanometri, quindi non siamo ancora alla risoluzione atomica. Però diciamo, vabbè, andiamo in quella direzione, quindi utilizziamo radiazioni sempre più di lunghezza d'onda bassa, quindi di frequenza elevata, e fin tanto che non arriviamo alla risoluzione atomica, no? E per farlo quindi avremo bisogno di una radiazione che abbia una lunghezza d'onda dell'ordine del Armstrong. E questo esiste, sono i cosiddetti raggi X, quindi se andate sulle tavole che trovate in giro, anche su internet, su libri di testo, di scienze, anche delle superiori, avete lo spettro elettromagnetico e vedete che questo va da lunghezze d'onda bassissime, che sono quelle corrispondenti ai raggi gamma, prima ancora si parla di raggi cosmici, eccetera. Poi ci sono i raggi X, poi ci sono gli ultravioletti, la luce visibile, l'infrarosso vicino, l'infrarosso lontano, le microonde, le radioonde, eccetera, eccetera. Quindi i raggi X sono una radiazione elettromagnetica con lunghezza d'onda dell'ordine del Armstrong, si producono in un certo modo abbastanza facile, poi la settimana prossima vi dirò anche qualcosa sui dispositivi sperimentali, se faccio un tempo per produrre questi raggi X, sono quindi producibili a livello di laboratorio con dei dispositivi neanche troppo costosi, che sono appunto i generatori dei raggi X, che vengono impiegati non soltanto dai cristallografi, ma ad esempio quando voi, speriamo di no, diciamo non voi, ma qualcun altro va in ospedale a fare una radiografia perché se fatto male, utilizzano anche i raggi X e hanno dei generatori che sono del tutto analoghi a quelli che utilizziamo noi, cristallografi. Poi l'impiego che se ne fa è totalmente diverso da quello che ne facciamo noi, però la produzione dei raggi X non è un problema. Dov'è il problema? Il problema è che se voi volete costruire un microscopio a raggi X avete bisogno di lenti che siano in grado di focalizzarli questi raggi X, quindi funzionare esattamente così come funzionano per la radiazione visibile. E allora forse, non lo so se lo avete fatto, ma questo adesso è irrilevante che l'abbiate fatto o meno, ve lo racconto io, ve lo accenno semplicemente. Se avete fatto a fisica 2 anche un po' di ottica di funzionamento delle lenti, si tratta di applicare semplicemente dei principi molto semplici che hanno a che fare con l'indice di rifrazione della lente e con la geometria della lente. Quindi come funziona la lente? La lente è un oggetto normalmente convesso che raccoglie, non sempre, è un po' dal tipo di lenti, ma che raccoglie la radiazione che la colpisce, che la raggiunge, la radiazione elettromagnetica e la deflette in un certo modo, che dipende appunto dalla morfologia, dalla forma della lente, ma soprattutto dipende dall'indice di rifrazione della lente. Se la lente avesse un indice di rifrazione 1, esattamente 1, cioè non rallenta, sapete che il radice di rifrazione di un materiale non è nient'altro che il rapporto della velocità della luce nel vuoto o nel mezzo circostante la lente e la velocità che invece ha nel mezzo in cui si propaga. Quindi avere un indice di rifrazione che vale esattamente 1 vuol dire che la lente non rallenta il fascio di radiazione elettromagnetica e quindi non è in grado di defletterla. Qualunque forma abbia la lente, se questo ha indice di rifrazione 1 rispetto alla radiazione che la colpisce, il fascio di radiazione prosegue la sua corsa attraverso la lente senza neanche vederla, senza neanche accorgersi della sua esistenza e quindi non riesce a formare un'immagine, non la lente se non defletta il fascio di radiazione. Quando la lente invece ha un indice di rifrazione differente da 1 o maggiore dell'unità, quel che succede è che l'immagine viene deflessa e portata a formare una prima, chiamiamola immagine, non è l'immagine dell'oggetto, porta la radiazione su quello che è il cosetto piano focale della lente. Il piano focale è quel piano che passa per un punto che è il punto focale della lente. Quando eravate ragazzini magari provavate con le lenti a mettere un foglio di carta dietro una lente messa e messi diciamo di fronte a una finestra, si raccoglieva la radiazione solare, questa veniva focalizzata in un punto che voi regolavate, regolando la distanza della lente dal foglio, fino a che non si formava un punto luminoso molto intenso e qualche volta si riusciva ad incendiare il foglio. Non so se avete mai fatto dei giochetti di questo genere. Allora quel punto è il punto focale della lente e il punto in cui tutti i fasci di radiazione provenienti dal sole raccolti dall'obiettivo della lente vengono focalizzati, quindi vengono tutti deflessi in quel punto lì. Ecco attraverso quel punto e parallelamente al piano della lente c'è il cosiddetto piano focale, quindi quel punto vi identifica non solo il punto focale ma vi identifica il punto in cui passa esattamente un piano che è il piano focale della lente. E sul piano focale della lente, quando usiate un fascio di radiazione che non è semplicemente parallelo all'asse ottico della lente, ma diciamo arrivi con tutta una gamma di angolazioni possibili, su quel piano focale della lente si forma la trasformata di Fourier dell'oggetto che volete vedere. Allora quando studiate ottica delle lenti avete questa cosa, i trasformati di Fourier le avete già viste nel corso di metodi e le usate poi nella parte di meccanica quantistica per fare certe cose. Noi le usiamo in maniera differente rispetto a quello che si fa in altri corsi, però il concetto matematico è sempre quello. Voi avete quindi una radiazione che arriva sull'oggetto, interferisce con l'oggetto, viene diffusa, interferisce con certe caratteristiche dell'oggetto, non con l'oggetto to cure, ma diciamo l'oggetto ha certe caratteristiche che interagiscono, che portano a interagire con la radiazione elettromagnetica, questa viene diffusa in tutte le direzioni possibili dall'oggetto medesimo. Una parte di queste radiazioni diffuse con vari angoli rispetto all'oggetto viene raccolta dalla lente, dalla lente obiettivo del vostro sistema e questa focalizza tutta questa radiazione proveniente con vari angoli, li focalizza su quello che è il piano focale della lente e quindi forma la trasformata di Fourier di quelle caratteristiche dell'oggetto che hanno contribuito a diffondere l'onda incidente. Dopodiché queste fasce di radiazioni che è focalizzato lì sul piano focale della lente prosegue la sua corsa, le radiazioni interferiscono e le radiazioni che provengono dal piano focale interferiscono tra loro, perché sono onde quindi ciascuno interferisce con tutte le altre e vanno a cosetto fuoco nel momento in cui si ricombinano in un qualche modo e formano l'immagine dell'oggetto sul piano immagine della lente medesima e se volete il piano immagine della lente medesima contiene l'antitrasformata di Fourier di ciò che sta sul piano focale della lente. Quindi è un gioco di trasformate di Fourier, l'oggetto interagisce con la radiazione, si produce un fascio di radiazione, questo viene portato sul piano focale della lente, il piano focale della lente è la trasformata, l'immagine che avete sul piano focale della lente è la trasformata di Fourier delle caratteristiche dell'oggetto che hanno prodotto la diffusione, dopodiché proseguendo e queste onde interferiscono tra loro e su quello che è il piano immagine della lente obiettivo si forma l'antitrasformata di Fourier di ciò che sta sul piano focale della lente e quindi si forma l'immagine dell'oggetto originale perché sarebbe l'antitrasformata di Fourier della trasformata di Fourier delle caratteristiche dell'oggetto che abbia prodotto la diffusione della luce che ha colpito l'oggetto medesimo, quindi questo è ciò che è proprio molto molto rapidamente ciò che è il processo di funzionamento di una lente. Allora vi dicevo, deve esistere, per poter utilizzare un microscopio con qualunque radiazione uno voglia usare, il punto essenziale è che ci sia una lente che sia in grado di avere un indice di rifrazione che sia maggiore dell'unità rispetto appunto a quello che è la radiazione che la colpisce. E il problema per la cristallografia è che non esiste al mondo, e neanche non al mondo, neanche fuori dalla Terra, nessun materiale che abbia un indice di rifrazione per i raggi X che sia maggiore di uno, sensibilmente maggiore di uno. I materiali sono essenzialmente trasparenti alla radiazione X, poi non sono esattamente trasparenti, ma diciamo questo fortunatamente, altrimenti non saremo neanche qui a raccontare queste cose, perché saremo colpiti anche dai raggi X che arrivano dal Sole in questo modo, ma non è tanto quello un problema, è che sono trasparenti nei confronti di un'interazione elastica dei raggi X con la materia medesima, in pratica vengono assorbiti, ma per processi che non hanno niente a che vedere, con i processi di diffusione che vogliamo discutere noi, e non vengono deflessi da nessun materiale. Quindi non è possibile costruire delle lenti che siano in grado di deflettere dei raggi X, e quindi non è possibile costruire dei microscopi a raggi X. E allora come facciamo a vedere negli atomi se non possiamo utilizzare dei microscopi? A parte che si possono usare microscopi elettronici, ma questa è un'altra questione. E poi magari se avrò tempo vi dirò che i microscopi elettronici sono degli strumenti tanto belli, però poi alla fine hanno un sacco di altri problemi, per cui le immagini che formate non sono così dettagliate, ci sono dei problemi nell'interpretare le immagini dei microscopi elettronici, e poi hanno un altro grossissimo problema, i microscopi elettronici, che costano un sacco, milioni di euro per avere un microscopio elettronico, quindi non sono degli strumenti da laboratorio, molto diffusi, e per adoperarli ci vuole un training non indifferente, bisogna lavorarci su per un po' di mesi, se non anni, prima di imparare a utilizzarli al meglio, e oltretutto possono lavorare su, non tutti, su tutti i possibili materiali, ma soltanto su una classe di materiali che devono anche essere trattati in un certo modo, quindi non sono certamente lo strumento ideale che consente al cristallografo di risolvere strutture cristalline nella maggioranza dei casi, quindi bisogna rinunciare a quello. Allora, torniamo sui raggi X, non abbiamo la possibilità di usare dei microscopi e quindi dobbiamo farne a meno, dobbiamo trovare il modo di fare a meno di usare delle tecniche di microscopia, e quello che si fa è sostituirsi al microscopio utilizzando la matematica, cioè descrivere innanzitutto in qualche dettaglio ciò che succede all'interazione della radiazione elettromagnetica, del fascio di raggi X con il nostro materiale, e sostituirsi alla lente con dei procedimenti matematici. Quindi noi sappiamo descrivere che cosa succede quando un'onda arriva su un certo materiale e quindi questo che vi ho raccontato, il fare la trasformata di Fourier e poi l'antitrasformata di Fourier, di ciò che dovrebbe comparire sul piano focale di una presunta lente obiettivo, anziché farlo fare da una lente vera, lo facciamo noi dal punto di vista matematico. Quindi quel che si fa è raccogliere comunque le onde che vengono diffuse, poi parleremo in realtà di diffrazione, vedremo poi oggi qual è la differenza tra diffusione e diffrazione, una differenza poi non così essenziale, ma poi vedremo bene che cos'è questa differenza. quindi noi raccogliamo in realtà le onde che vengono diffuse, le chiameremo onde diffrate dal materiale, le onde X, e ci facciamo l'operazione, dal punto di vista matematico, che è esattamente l'operazione che farebbe una lente messa sul nostro cammino, tra il cristallo e il detector che andiamo a mettere per raccogliere la radiazione che viene diffusa. Allora, questo diciamo era il discorso generale per cui il fatto per cui dedichiamo del tempo a quella che viene chiamata la teoria della diffrazione. Allora, per noi la diffrazione è un fenomeno di natura elastica, nel senso che adesso diciamo così, per costruire una teoria che funzioni, che non sia troppo complicata, che la si possa implementare facilmente in calcolatore, in programmi di calcolatore che poi trattino i dati in qualche modo e che non sia difficile da usare, in realtà appunto quello che si fa normalmente è costruire un modello, un modello fisico-matematico che deve catturare i tratti essenziali del fenomeno che avviene, trascurando tutta una serie di dettagli che possono essere irrilevanti o che vanno a impattare i suoi risultati soltanto in maniera marginale e poi appunto in base al modello si costruisce la fisica che ci interessa. Allora, una delle prime questioni che si affronta è il tipo di interazione che l'onda incidente X deve avere sul materiale. Allora, il tipo di interazione è un'interazione di natura elastica, vuol dire non c'è, si suppone, ed è questo diciamo è vero, nel senso che poi la fisica che tiriamo fuori e il modello che tiriamo fuori ci predice dei risultati che sono in grande accordo con i risultati sperimentali, quindi vuol dire che il modello funziona e quindi vuol dire che se il modello include anche l'ipotesi dell'interazione elastica, anche questa non sia un'ipotesi da scartare, campata per aria, ma un riscontro nel fatto che poi con quel modello che include quell'approssimazione e con quella dell'interazione elastica si riescono a riprodurre i dati sperimentali. Funziona sempre così in qualunque teoria fisica, uno costruisce dei modelli e poi vede se funzionano, controlla se funzionano, affrontando i risultati che il modello predice con i risultati sperimentali. Allora, una delle prime approssimazioni che si fa è l'interazione di tipo elastico, cioè non c'è scambio di energia tra l'onda incidente e il cristallo medesimo, quindi se l'onda entra sul materiale con una certa lunghezza d'onda lambda, il che significa entrare con una certa frequenza, la radiazione si propaga nel vuoto, ha una certa velocità, la velocità della luce nel caso della radiazione elettromagnetica e questa consente di legare la lunghezza d'onda alla frequenza, lambda per nu, dove nu è la frequenza e lambda è la lunghezza d'onda, è proprio uguale alla velocità dell'onda e quindi fissare la lambda significa fissare la frequenza, la frequenza a sua volta è legata all'energia dell'onda, all'energia di ciascun fotone che fa parte del pacchetto d'onde che arriva sul materiale, dalla legge che già conoscete, la legge di Planck, quindi è uguale a h1, dove h è la costante di Planck. Quindi se non cambia la lunghezza d'onda in realtà della nostra radiazione non cambia neanche la frequenza e quindi l'onda entrante sul cristallo ha la stessa lunghezza d'onda dell'onda uscente e quindi non c'è stato scambio di energia tra il cristallo e la radiazione. Quindi questa è una delle prime ipotesi che si fa nel trattare il sistema. Dopodiché facciamo anche l'approssimazione delle onde piane, quindi immaginate un'onda sferica che venga prodotta da una certa sorgente di raggi X, questa viaggia con un fronte d'onda di tipo sferico, si propaga a partire dalla sorgente con un fronte d'onda di tipo sferico, però se ci mettiamo a una grande distanza e osserviamo il fronte d'onda da una grande distanza rispetto alla sorgente dell'onda, la sorgente che possiamo immaginare puntiforme, grande cosa vuol dire? Grande vuol dire grande rispetto alle dimensioni della lunghezza d'onda della radiazione, quindi se per esempio la nostra radiazione è una radiazione X che ha una lunghezza d'onda dell'ordine dell'Ermström, quindi che so 1.54 Ermström, che è una delle lunghezze d'onda usate molto nei diffrattometri, cioè negli strumenti che usiamo per osservare i cristalli con i raggi X, e osserviamo quest'onda a una distanza che so di 10 cm dalla sorgente, siamo a una distanza che è enorme rispetto alla lunghezza d'onda, siamo nell'ordine dei 10 alla 8 come fattore, come distanza, il rapporto tra la distanza a cui osserviamo l'onda e l'ordine del centimetro rispetto alla lunghezza d'onda medesima. Quindi possiamo tranquillamente considerare quell'onda come visto, quel fronte d'onda come visto a una grande distanza rispetto alla sorgente e se osserviamo una zona limitata del fronte d'onda, una piccola parte di calotta sferica del fronte d'onda, in realtà possiamo approssimarlo senza fare nessun errore rilevante con un fronte d'onda piano, quindi un piano non praticamente che si propaga nello spazio. E la stessa cosa avviene nel momento in cui l'onda colpisce, immaginiamo, dei centri diffusori, adesso qui comincio a fare riferimento a ciò che ho proiettato sullo schermo, quindi immaginiamo questa onda che si propaga secondo una certa direzione, poi qui ho indicato un K0, poi lo discutiamo che cos'è questo K0, queste righe nere verticali che ho disegnato sono la rappresentazione del fronte d'onda in arrivo su un certo numero di centri diffusori, quindi poi vediamo che cosa sono esattamente, e la distanza tra queste righe nere è esattamente la lunghezza d'onda, quindi qui ho disegnato il fronte d'onda che si propaga in questa direzione e il fronte d'onda ha dei picchi, cioè il fronte d'onda è un piano di fatto, però diciamo a distanze diverse rispetto alla sorgente della radiazione che sarà messa da qualche parte a sinistra, la distanza di queste linee corrisponde proprio alla lunghezza d'onda incidente. Quindi qui noi abbiamo questo fronte d'onda piano che si propaga e poi viene catturata questa onda da questi che sono appunto centri diffusori. dei punti, per adesso, per noi sono semplicemente dei punti che siano in grado di prendere la radiazione che arriva e riemetterla in tutte le direzioni. Quel che succede, beh, tornando un attimino nello specifico, immaginate che questi punti siano semplicemente degli elettroni, cioè delle cariche di fatto, non necessariamente degli elettroni, ma delle cariche elettriche, quel che succede è che arriva l'onda, l'onda è una radiazione elettromagnetica, quindi lasciamo perdere per adesso la componente magnetica dell'onda, che poi non è così importante ai nostri fini, ma focalizziamoci sulla parte elettrica, avete un campo elettrico oscillante che arriva su delle cariche elettriche. E cosa fa una carica elettrica quando è sottoposto a un campo elettrico? Si muove in accordo a quello che è il campo elettrico, che colpisce la carica, il campo elettrico in cui la carica medesima è immersa. Ma questo campo elettrico oscilla, il campo elettromagnetico, nella radiazione elettromagnetica è un'onda che oscilla e quindi oscillerà anche la carica elettrica, quindi questa cattura il campo, interagisce con il campo elettrico che la colpisce, con il campo elettrico oscillante e si metterà ad oscillare esattamente con la stessa frequenza con cui oscilla il campo elettromagnetico, quindi oscillerà nel campo dei raggi X con la frequenza tipica dei raggi X che vi calcolate dividendo la velocità dei raggi X per la loro lunghezza d'onda. Che cosa fa una carica oscillante? Una carica oscillante è di fatto una carica accelerata perché nel tempo cambia la sua velocità, quindi ci sarà un momento in cui la sua velocità massima, poi arriva ad un estremo dell'intervallo in cui oscilla, in cui la velocità sarà a zero, la carica poi inverte il suo moto per viaggiare nella direzione opposta e viceversa, si comporta come un oscillatore, non la carica che è immersa in un campo elettrico oscillante, cioè è accelerata e se è accelerata le leggi di Maxwell ci dicono che riemette a sua volta una radiazione elettromagnetica e la riemetterà esattamente con la stessa frequenza con cui è stata colpita, la stessa frequenza della radiazione che ha colpito la carica elettrica e qui sta l'ipotesi elastica, la frequenza con cui l'onda viene rilasciata dalla carica oscillante è esattamente la stessa frequenza con cui la carica è stata colpita, la stessa frequenza della radiazione elettromagnetica che ha colpito la vostra carica. Allora la carica ha intercettato l'onda e la riemette a sua volta con un certo ritardo, adesso non ci interessa discutere questi dettagli qui, la riemette con un certo ritardo nella direzione, in tutte le direzioni in realtà dello spazio, quindi emette un'onda sferica in tutte le direzioni dello spazio. Con un certo ritardo, dicevo, in realtà non è così rilevante, nel senso che se il ritardo fosse significativo, il ritardo dell'emissione una volta catturata la radiazione fosse significativo, questo vorrebbe dire che la vostra carica è riuscita in qualche modo, sta riuscendo a rallentare l'onda incidente e rallentare significa che l'indice di rifrazione del materiale costituito da questi centri diffusori sarebbe maggiore dell'unità. Nel caso dei raggi X, questo non succede, quindi vuol dire che il ritardo con cui la radiazione viene riemessa in tutte le direzioni è praticamente tendente a zero, quindi così come arriva l'onda viene immediatamente riemessa in tutte le direzioni. Quindi si formano per ciascuno dei centri diffusori, si forma un'onda sferica, un'onda sferica per ciascuno dei centri diffusori, io qui ne ho messi quattro, che però se andiamo a osservare queste onde diffuse da ogni centro diffusore, le andiamo a osservare ad una distanza elevata rispetto alla sorgente di queste onde, quindi ad una distanza elevata rispetto alle posizioni dei centri diffusori, ancora possiamo fare la stessa approssimazione dell'onda piana che abbiamo fatto discutendo dell'onda incidente che arriva sull'insieme dei centri diffusori, quindi noi possiamo immaginare di andare a raccogliere le onde che vengono diffuse da questo insieme di centri diffusori ad una grande distanza, grande in confronto in comparazione con la lunghezza d'onda della radiazione che viaggia nello spazio, quindi anche qui qualche centimetro nel caso dei raggi X, andiamo a mettere dei detector o un detector o qualche detector a una certa distanza dall'insieme di centri diffusori e le onde che arrivano non le possiamo considerare piane. Allora qui quello che, adesso dobbiamo entrare un attimino più nel dettaglio formale, quello che poi in realtà poi all'esame non vi chiedo, ma qui abbiamo la nostra onda incidente a cui ho assegnato un certo vettore che ho chiamato K0, questo K0 è il vettore d'onda dell'onda medesima, voi avete già visto delle espressioni del tipo E, espressioni esponenziali di questo genere, E elevato a meno 2πi kRJ, dove questa è proprio l'espressione che si dà a un'onda piana, questo oggetto esponenziale con esponente immaginario corrisponde, quando andate a usare le forme di eulero per esprimere le vostre funzioni esponenziali con esponente immaginario, in termini di segni di coseni dell'argomento dell'esponente, quindi questo sarebbe coseno di meno 2πkRJ e meno i seno di 2πkRJ, quindi avete il termine esponenziale con esponente immaginario che descrive di fatto quella che è un'onda piana e questo K che compare nell'esponente è il vettore d'onda, quindi un oggetto, un vettore che ha un modulo che normalmente 1 su lambda o 2π su lambda, a seconda che il 2π che ho scritto qui dentro lo incorpori in 2π o meno, qui è questione di convenzione, quando si fa la teoria della diffrazione normalmente il K non include il 2π, in altri ambiti invece lo si fa, lo si incorpora, quindi un vettore di lunghezza di modulo 1 su lambda è moltiplicato per un numero che vale 1 su lambda che va a moltiplicare un versore nella direzione normale al fronte d'onda, ovvero nella direzione parallela al fascio di radiazione, quindi questo vettore qui vi descrive la direzione di propagazione della vostra onda incidente, non soltanto in termini geometrici, non soltanto in quale direzione sta andando l'onda, ma ve lo descrive anche in termini di lunghezza d'onda o di energia e appunto il modulo di quel vettore non è niente altro che 1 su lambda, quindi il reciproco della lunghezza d'onda. E la stessa cosa vale per le onde che vengono diffuse dai centri diffusori, per cui io definisco per esempio, scelgo tra le infinite direzioni di diffusione, scelgo una in particolare, una certa direzione k, indicata da questa freccetta, e questo k, perché l'onda abbia interagito, perché la radiazione abbia interagito in maniera elastica con il nostro sistema di centri diffusori, la sua lunghezza d'onda, la lunghezza d'onda di queste onde blu, verdi e rosse, sono esattamente uguali alle lunghezze d'onda del fronte d'onda incidente, quindi il modulo di questo vettore k sarà esattamente pari a 1 su lambda, cioè esattamente lo stesso modulo del vettore k0. Allora voi avete tutte queste onde che vengono diffuse in una certa direzione k, appunto consideriamo quella direzione tra le infinite possibili, e vengono a interferire tra loro, avete delle onde che partono da punti differenti, immaginate di mettere l'origine di un dato sistema di riferimento da qualche parte nello spazio, ognuno di questi centri diffusori sarà caratterizzato da un certo vettore, questo rj che ho scritto in questa espressione, dove appunto rj è posizione, il vettore posizione di ciascuno dei centri diffusori rispetto a una certa origine del nostro sistema di riferimento, e quindi quando ciascuna di queste onde, l'onda rossa, l'onda verde, l'onda blu e l'onda marrone, diciamo è descritta da un certo fattore esponenziale, quindi e elevato a meno 2 pi greco i k rj, dove rj sarà la posizione di uno di questi centri diffusori, e questo è semplicemente il cosiddetto fattore di fase dell'onda, ma l'onda diciamo verrà emessa da ciascuno di questi centri diffusori con una certa ampiezza, e l'ampiezza è quella che qui ho indicato con questo fattore fj. Quindi qui abbiamo una certa sommatoria su tutti i centri diffusori, e ciascun termine della sommatoria rappresenta un'onda che viene diffusa nella direzione k, un'onda piana che viene diffusa nella direzione k dal centro diffusore con una certa ampiezza fj e una certa fase che è descritta da questo termine esponenziale, in cui appunto nell'esponente avete sia il vettore d'onda che state considerando che vi descrive la direzione con cui l'onda viene diffusa, e rj che è appunto la posizione del centro diffusore. E perché qui c'è la sommatoria? Questo considerando la interferenza di tutte le onde che viaggiano nella direzione k, e quindi devo sommare tutte queste onde che viaggiano lungo quella direzione, ciascuna con la sua fase, ciascuna con la sua ampiezza, e quello che ottenete al termine di questa sommatoria, quindi quando fate questa sommatoria, è questa f grande di k. Questa è l'onda risultante nella direzione k, quindi se voi avete questo sistema di centri diffusori e volete calcolare quale sia l'onda che si propaga nella vostra direzione k, semplicemente dovete fare questa espressione e quindi andare a calcolare la vostra f di k. Quindi fk è essenziale e l'onda è risultante. Adesso questi centri diffusori io li ho distribuiti, o ne avevo considerati soltanto 4, messi in certe posizioni specifiche dello spazio, ma in realtà io potrei pensare di considerare una distribuzione continua in tutto lo spazio di questi centri diffusori, quindi non soltanto 4, ma un numero infinito distribuiti nello spazio in un certo modo. Allora, innanzitutto, nei casi che ci interessano di interazione del nostro fascio di raggi X con la materia, quei centri diffusori sono gli elettroni, sono loro che catturano la radiazione elettromagnetica, sono le cariche che abbiamo nel nostro sistema e che interagiscono con la radiazione elettromagnetica e poi la riemettono a loro volta. E voi sapete, per tutto quello che avete già visto, meccanica quantistica, eccetera, che non avete elettroni fissi, pochi elettroni fissi nello spazio che non si muovono, ma stanno lì a una certa distanza l'uno dall'altro nel vostro materiale, nella vostra molecola, nel vostro atomo, avete una distribuzione continua in realtà di centri diffusori di questi elettroni che è descritta da quella che viene chiamata la densità elettronica. Ogni atomo, ogni molecola, ogni cristallo ha una sua densità elettronica che voi avete già visto, la meccanica quantistica, è legata al modulo quadro della funzione d'onda che andate a tirar fuori dall'equazione di Schrödinger, quindi prendete per esempio un atomo, avete un certo operatore amiltoniano, risolvete la vostra equazione di Schrödinger hpsi uguale epsi, ottenete le soluzioni di queste equazioni di Schrödinger che sono gli orbitali atomici, ne fate il modulo quadro e avete la densità elettronica, avete la probabilità di trovare gli elettroni in un qualche punto dello spazio e questo non è nient'altro che la densità elettronica relativa a un certo orbitale. Poi l'insieme di orbitali dell'intero atomo, che non è detto che abbia solo elettrone, perché l'idrogeno è così, ma per gli altri atomi sono multielettronici, hanno una struttura elettronica un po' più complessa rispetto a quella dell'atomo di idrogeno, ma non poi così differente e ciò che viene fuori è una funzione che è legata appunto alle caratteristiche degli orbitali atomici, che è la vostra funzione densità elettronica e vi descrive questa la distribuzione degli elettroni nello spazio. Quindi immaginate di avere a che fare con un atomo, avete una certa funzione ρ di r che va a descrivervi dove sono messi gli elettroni intorno ad esempio ad un nucleo, supponiamo che appunto avete a che fare con un certo atomo, avete un nucleo e una funzione densità elettronica. Allora innanzitutto il numero di punti dello spazio è infinito, quindi al posto di avere un numero finito di centri diffusori ne avete un numero infinito, quindi la vostra sommatoria che ho scritto qui si trasformerà in un integrale, un integrale in dr, di onde piane, questi termini f elevato a 2 pi greco, questi e elevato a meno 2 pi greco k rj, quindi di onde piane con un certo loro fattore di fase, e ciò che sono questi f con j, questi f piccolo con j che ho scritto qui, cioè le ampiezze di diffusione della radiazione da parte degli elettroni, si trasformano in qualcos'altro, cioè immaginiamo che l'ampiezza dell'onda diffusa in una certa direzione, in un dato punto dello spazio, sia a funzione del numero di centri diffusori che occupano quella regione di spazio. Quindi se qui per esempio ho un elettrone, un elettrone, un elettrone, un elettrone distribuito in questo modo, se immagino che ogni punto dello spazio contenga un certo numero di elettroni, quel punto dello spazio sarà in grado di diffondere la radiazione in funzione di quello che è il numero di elettroni che quella regione di spazio contiene. Ma questo è proprio ciò che viene descritto dalla rodier, dalla densità elettronica, quindi tanto più un punto dello spazio è caratterizzato dalla densità elettronica elevata, tanto più l'ampiezza dell'onda risultante da questo processo di diffusione è elevata, è grande. E quindi al posto di questi f piccolo con j vado a metterci proprio la nostra funzione rodier. Allora questa f di k che ho scritto qui è proprio l'onda risultante nella direzione k dal nostro insieme di centri diffusori che è distribuito secondo una certa rodier. Ma se adesso guardate questa espressione vi accorgete che questa non è nient'altro che la trasformata di Fourier della rodier. Manca un fattore davanti che normalmente viene messo uno su radici 2 pi greco, ma adesso questi sono dettagli che non ci interessano assolutamente. Le costanti 2 pi greco eccetera le togliamo, ci interessa costruire il modello, la fisica del sistema nei tratti essenziali senza andare a vedere troppi dettagli che non hanno nessuna rilevanza. Il fatto di metterci qui uno su 2 pi greco o uno su radici 2 pi greco o semplicemente uno non cambia assolutamente niente nel modello che andiamo a costruire. È una costante di cui possiamo tranquillamente fare a meno. Ma il punto essenziale è che se avete una distribuzione di elettroni nel vostro oggetto appunto descritta da una funzione di densità elettronica, l'onda risultante nella direzione k scelta, qui andate poi a osservare il fascio di raggis che viene diffuso dal sistema, e la trasformata di Fourier della rodier, che qui ho scritto in maniera più compatta, quindi uso questo operatore che appunto è l'operatore trasformato di Fourier che agisce su una funzione rho e vi restituisce una funzione, che è una funzione di k. Allora vediamo innanzitutto nel caso più semplice qual è la trasformata di Fourier di una densità elettronica di un atomo isolato, quindi prendete un atomo, chiamiamo sempre il sodio a rapporto, quindi consideriamo sempre lui, e descrivete in qualche modo la sua densità elettronica. Ora questa è una funzione piuttosto complicata perché appunto dipende dalla forma degli orbitali, che poi dovrebbero essere gli orbitali che competono all'atomo di sodio, che non sono così semplici, ma dal punto di vista formale, però poi tutto sommato la funzione che tirate fuori, la vostra odr, e quindi quella che descrive la densità elettronica per ogni punto dello spazio, non è molto differente da una funzione che ha un profilo gaussiano. Magari non proprio una gaussiana, ma la potete descrivere con una combinazione lineare di funzioni gaussiane, ma non è questo il punto. Avete una funzione che semplicemente potete esprimere con e elevato a meno alfa r quadro, dove alfa è un certo coefficiente, un coefficiente termine esponenziale, che dipende poi dalle caratteristiche esattamente della lista elettronica dell'atomo che considerate, quindi ogni atomo avrà un suo alfa caratteristico, o un insieme di alfa caratteristici. Quindi questa e elevato a meno alfa r quadro è una qualche funzione modello che funziona abbastanza bene per descrivere a sommi capi quella che è la densità elettronica di un atomo. E fate la trasformata di Fourier di questo oggetto qui per avere l'onda che è l'oggetto in grado di diffondere nello spazio, e questa non è un'operazione difficile da fare, ve lo scrivo qui, però poi è anche dettagliato nelle dispense, è semplicemente la trasformata di Fourier di una funzione gaussiana che a propria volta è una funzione gaussiana con un termine che per noi adesso è rilevante, un radice di pi greco su alfa, che viene fuori dalla risoluzione di questo integrale, per una funzione esponenziale che è ancora una funzione gaussiana, vedete che avete un meno pi greco quadro, k quadro su alfa, quindi tanto più l'alfa, vabbè su questo adesso non sto entrare. Diciamo la cosa che ci interessa è che questa è una funzione che dipende dal k, cioè dal modulo quadro del vettore d'onda. Allora potete descrivere la vostra funzione, funzione di k, quindi passate da una funzione di r facendo la trasformata di Fourier a una funzione di k, potete descrivere l'andamento di questa f di k al variare di k e poi come vedremo più avanti, la prossima volta, il modulo di questo vettore k in realtà è legato a un angolo, un dato angolo, chiamato θ, il modulo di k non è nient'altro che questo sen θ su λ, dove λ è la lunghezza d'onda del fascio incidente e θ è la metà dell'angolo che c'è tra il modulo, tra il vettore k e il vettore k0, cioè è la metà dell'angolo che avete tra il vettore d'onda diffuso e il vettore d'onda incidente, poi perché la metà dell'angolo e non proprio l'angolo, insomma da dove salta fuori lo vediamo poi la prossima volta, allora però questo lo faccio vedere perché normalmente i dati di diffrazione, di diffusione sono indicati non tanto in funzione del modulo di k espresso in qualche modo, ma in funzione del sen θ su λ, quindi avete delle curve che sono simili, non sono esattamente delle gaussiane, ma anche delle curve che ricordano un po' delle gaussiane e che hanno appunto questo loro andamento con il sen θ su λ, quindi voi andate a prendere un certo valore di α che caratterizza la densità elettronica di un dato atomo isolato e costruite questa funzione, la rappresentate in funzione di sen θ su λ, che come dicevo non è nient'altro che il modulo di k e avete delle curve di questo genere qui. Quindi avete due disegnate per il calcio e per il silicio, queste sono provenienti da delle misure sperimentali piuttosto datate, le ho prese da un testo un po' vecchio, vedete che avete anche la carta ingiallita che testimonia il fatto che si trattava di un testo di cristallografia un po' datato, sono appunto delle curve tirate fuori sperimentalmente andando a vedere, a misurare effettivamente l'onda diffusa in tutte le direzioni con certi angoli, da atomi che sono calcio, silicio, tutti gli atomi della tavola periodica. Oggi non si fa più così, oggi si usano delle curve che vengono chiamate curve di scattering, curve di diffusione, si usa il termine anglosassone anche nei test italiani, curve di scattering, in realtà vengono calcolate a partire dalla densità elettronica e calcolate con la meccanica quantistica, degli atomi isolati, quindi i fattori di scattering vengono calcolati, quindi trasformati di furia e di densità elettronica calcolate con la meccanica quantistica. E vedete che queste curve, il punto a sentenza sull'amdo ugual zero, cioè il punto k ugual zero, quindi esattamente l'intercetta delle curve sull'asse delle ordinate, si calcola molto facilmente andando a mettere k ugual zero qui all'interno della vostra trasformata di furia e se mettete k ugual zero qui dentro avete l'integrale tra meno infinito e più infinito di e elevato a meno alfa r al quadrato, questo termine essenzialmente è zero, ma questa è la rho di r, quindi avete l'integrale su tutto lo spazio della funzione di densità elettronica. E che cos'è? Quindi quando vado a mettere f di zero, cioè vado a calcolarmi la trasformata di furia per k ugual zero, ho l'integrale su tutto lo spazio della rho di r, cioè della densità elettronica e questa non è nient'altro che il numero di elettroni della specie che sto considerando, quindi se il calcio ha 20 elettroni a k ugual zero, la trasformata di furia per k ugual zero, questo oggetto qui, varrà esattamente 20, il numero di elettroni, poi ovviamente dell'unità di misura potrebbe essere il numero di elettroni o la carica comunque espressa in qualche modo del vostro atomo. Il silicio ha 14 elettroni, quindi la sua curva parte più in basso, poi segue un profilo di tipo gaussiano e si va a zero asintoticamente per valori di sintetà su lambda sempre più elevati. Questo vuol dire che il fattore di scattering di ogni atomo è funzione del numero atomico, quindi atomi leggeri con pochi elettroni diffonderanno la radiazione poco, mentre atomi pesanti diffonderanno la radiazione in maniera piuttosto significativa. Questo poi nella parte sperimentale ha un impatto, per esempio se volete osservare una struttura che contenga atomi di idrogeno e atomi di ferro, di piombo, la radiazione elettromagnetica che verrà diffusa e quindi diffratta poi dalla vostra struttura cristallina, supponiamo, porterà in sé il contributo degli atomi più pesanti, in quel caso del piombo che ha 82 elettroni e invece l'idrogeno contribuirà molto poco. Quindi per esempio vedere l'idrogeno con i raggi X in strutture che hanno anche atomi pesanti può essere un problema perché il suo segnale si perde un po' nel rumore di fondo e il segnale diffratto, il segnale diffuso in più in generale, è comunque dominato dalla presenza del piombo che diffonde invece in maniera molto molto forte, molto intensa. Questa è poi una questione che riguarda poi alcuni aspetti sperimentali che poi magari vedrete in altri corsi, non in questo perché non abbiamo tempo. Allora, quella era la diffusione da un atomo isolato, quindi trasformata di Fourier della densità elettronica dell'atomo isolato. Adesso supponiamo di avere a che fare con una molecola, quindi non semplicemente un atomo da solo, ma un atomo legato in un qualche raggruppamento, quindi un insieme di atomi. Quale sarà la densità elettronica del vostro insieme di atomi? Non è banale descrivere la densità elettronica dell'insieme di atomi, diciamo che esiste un settore da una sessantina d'anni che si chiama chimica quantistica, della quale sono specialisti per esempio persone del gruppo di chimica teorica a Torino, quindi che so, Casassa, Civaleri, Lorenzo Maschio, è sottoscritto perché di fatto io faccio calcoli di densità elettronica per altre questioni sui cristalli con la meccanica quantistica, e diciamo che ricostruire la densità elettronica di un insieme di atomi, di una molecola, non è una cosa banale. Però ai fini della diffrazione non ci interessa tanto entrare nei dettagli di questa densità elettronica, ci interessa costruire un modello molto semplificato di ciò che avviene nell'interazione della radiazione col sistema e ai fini, diciamo, della costruzione di questo modello, non è un errore gigantesco, anzi un errore piuttosto trascurabile, sostenere che la densità elettronica di una molecola sia la sommatoria delle densità elettroniche dei singoli atomi isolati, come se i singoli atomi fossero isolati, ciascun atomo essendo posizionato, avendo il nucleo identificato da un certo vettore R con M nello spazio, quindi questo R con M è un vettore che rispetto a un'origine identifica la posizione di un certo atomo, del nucleo di un certo atomo, e a questo atomo associamo una densità elettronica che ho chiamato Rho di M, e quindi questa è Rho di M R-RM, è la densità elettronica dell'atomo il cui nucleo si trova nella posizione identificata al vettore R con M. Sommate la densità elettronica di tutti questi atomi che compongono la vostra molecola, e la molecola sia costituita da N atomi, N grande atomi, e avete la densità elettronica della vostra molecola, quella che ho chiamato Rho di C R. Per calcolare l'onda diffusa in una certa direzione K da questa densità elettronica della molecola, tutto quel che devo fare è la trasformata di Fourier della densità elettronica, e quindi la trasformata di Fourier è un operatore lineare, entra all'interno della vostra sommatoria, questa sommatoria scritta qui, e andate a fare semplicemente la trasformata di Fourier di ciascun atomo nella posizione R con M, e poi sommate tutte le trasformate di Fourier che avete ottenuto. E ottenete questa funzione qui, quindi fate questo passaggio, ottenete questa sommatoria di questi integrali. integrali che si possono calcolare facilmente, semplicemente facendo la sostituzione R con M, R meno R con M, la chiamate la nuova variabile R, quindi fate questa integrale per sostituzione, andate a fare il vostro, a introdurre questa sostituzione in questa integrale, e quel che vi viene fuori è che la vostra trasformata di Fourier e una sommatoria su tutti gli atomi di funzioni F e M di K, sono i fattori di scattering di ogni specie atomica, quindi che abbiamo visto nella slide precedente, sono questi i fattori di scattering qui, questi che hanno questo andamento qui, moltiplicati per una funzione esponenziale che contiene il vettore d'onda, ma, cosa più importante, contiene il vettore che è quello che assegna le coordinate di ogni nucleo, quindi questo R con M conterrà le coordinate x, y, z di ogni nucleo che costituisce la vostra molecola. Questa è già un'espressione molto utile, diciamo, è simile, differisce solo per un dettaglio che poi vedremo più avanti, a quello che è il cosiddetto fattore di struttura, un oggetto che di fatto è la rappresentazione matematica dell'onda che viene diffusa in una certa direzione dello spazio, da un certo vettore dell'onda K, e che dipende dagli atomi da cui è costituita la molecola, in questo caso, da cui sarà costituito il cristallo, più avanti, e quindi attraverso questi fattori di diffusione e, cosa più importante, contiene questo termine esponenziale che ha in sé l'informazione sulle coordinate degli atomi, coordinate più che degli atomi, le coordinate dei nuclei che costituiscono, in questo caso, la vostra molecola. Quindi queste onde, che potremmo in qualche modo misurare, dipendono dalle coordinate degli atomi della molecola e quindi poi sfrutteremo l'informazione codificata in questa f appunto per andare a tirar fuori le coordinate degli atomi nella molecola o nel cristallo. Adesso, diciamo, tutto qui era abbastanza discorsivo e non era di fatto un grosso problema, no? Secondo me, diciamo, non avete problemi nel comprendere tutto il discorso. Il problema, tra virgolette, matematico viene fuori qui, nel momento in cui dobbiamo descrivere la densità elettronica di un cristallo infinito, no? Quindi, vi ho parlato della densità elettronica dell'atomo isolato, vi ho parlato della densità elettronica della molecola, ma noi vogliamo parlare di densità elettronica di un cristallo, che è normalmente un cristallo macroscopico, quindi con un numero di atomi che è dell'ordine del numero di Avogadro, non 10 alla 23, e che va a interagire con la nostra radiazione e quindi, ovviamente, il cristallo non è infinito, ma sulla scala della lunghezza d'onda, diciamo, della radiazione che impieghiamo per osservarlo, ha tutti gli effetti un cristallo infinito. Quindi abbiamo un numero tendente all'infinito di atomi che va disposto in maniera periodica nello spazio e che va a interagire con la nostra radiazione. E il lavoro che dobbiamo fare è descrivere la densità elettronica del cristallo virtualmente infinito e, una volta che l'abbiamo fatto, ne calcoliamo la trasformata di Fourier e abbiamo quella che viene chiamata, appunto, l'onda diffratta in una certa direzione K. Allora, come facciamo a descrivere questo cristallo, questa densità elettronica del cristallo infinito? Beh, allora utilizziamo uno strumento matematico che si chiama funzione reticolo che, a sua volta, è costruito utilizzando queste funzioni. Questa è delta, che si chiamano... Ciascuna di queste funzioni si chiama delta di Dirac che credo che a meccanica quantistica e a metodi abbiate già visto, ma nel caso in cui non l'abbiate fatto ve la riassumo io. E' una... chiamiamola funzione, in realtà non è una funzione così come sono le funzioni ordinarie a cui siete abituati. I matematici hanno molto da dire su queste funzioni, in realtà è il limite di una successione di funzioni e bisogna usare la teoria delle distribuzioni per comprendere la proprietà della delta. Ma noi invece la trattiamo in maniera molto semplice, non da matematici, ma da fisici, esattamente così come l'aveva inventata Dirac, che si chiama delta di Dirac apposta, perché l'aveva inventata per risolvere dei problemi di normalizzazione delle funzioni d'onda di sistemi, diciamo, continui, in un certo modo, di funzioni d'onda continue di certi sistemi. Quindi, diciamo, non entriamo sulle ragioni del perché Dirac ha inventato una diavoleria del genere, a noi interessa, diciamo, le proprietà che vengono attribuite a questa funzione, che è di fatto una funzione che è zero ovunque, è sempre zero, tranne nel punto in cui il suo argomento valga zero, quindi ha una certa delta di x, delta di x vale zero sempre, tranne nel punto in cui x sia uguale a zero, e per quel punto la consideriamo tendente all'infinito. Quindi, limite per il che tende a zero di delta di x va all'infinito. Detto molto, molto, molto approssimativamente, è una cosa che ho detto che non piace niente ai matematici, ma noi ce la facciamo piacere perché abbiamo fretta e non possiamo scendere troppo su questioni matematica. Allora, questa delta di x, vedete che qui ho, non ho delta di x semplicemente, ma ho delta di x meno n a, il che vuol dire che questa funzione va a zero ovunque, tranne nel punto in cui x meno n a sia uguale a zero. Quindi, quando x è uguale a n a, l'argomento della funzione è nullo, e quindi la vostra delta va all'infinito, ed è zero in tutti gli altri casi. Ma qui abbiamo una sommatoria di queste delta di x meno n a con n che varia tra meno infinito o più infinito. Quindi, stiamo naturalmente descrivendo una situazione monodimensionale, quindi una, in questo caso, una serie di funzioni delta di Dirac posizionate lungo una linea, per esempio, l'asse x del nostro sistema, poi l'estensione a altre dimensioni è molto rapida, molto semplice, ma la vediamo più avanti. Adesso lavoriamo su un sistema monodimensionale, quindi in pratica sarà un cristallo monodimensionale quello che andiamo a costruire. E una serie di delta di Dirac, ciascuna centrata in un punto diverso che è individuato da un numero n, da un numero intero n, diverso, quindi da meno infinito, che so, da n certamente potrà essere uguale a zero, quindi abbiamo una situazione per cui abbiamo un termine delta di x nella sossomatoria, quindi un qualche cosa che vale infinito per il suo uguale a zero, poi n potrà valere 1, per esempio, quindi x meno a, quindi avremo un'altra funzione delta di x centrata nel punto in cui x è uguale ad a, poi un termine x con n uguale a 2, quindi quando x sarà uguale a 2a avremo un altro infinito, quindi avrete un'altra funzione delta centrata nel punto x uguale a 2a, allora, e la stessa cosa vale per n negativo, per i numeri n negativi. Allora, che cosa vi descrivo una cosa di questo genere, questo sommatorio? Supponete che a sia il parametro di cella di un cristallo monodimensionale, voi avete un reticolo con spaziatura A, ogni nodo del reticolo sarà messo, per esempio, in x uguale a zero, in x uguale a, in x uguale a 2a, in x uguale a meno a, in x uguale a meno 2a, eccetera, avete un reticolo di punti, di nodi del vostro reticolo e posizionati a distanza l'uno dall'altro che esattamente A, cioè esattamente uguale al vostro parametro di cella, del vostro cristallo monodimensionale. E su ogni nodo del reticolo ci andate a mettere una funzione delta, quindi, ogni nodo del reticolo è associato a questa funzione che va all'infinito proprio in prossimità del nodo del reticolo e zero ovunque, no? Si chiama anche funzione pettine, comb, no? una funzione reticolo di questo genere. Quindi, una descrizione analitica, se vogliamo, del reticolo usando le funzioni delta di Dirac. E per cosa usiamo questa roba qui, no? Allora, facciamo uso innanzitutto di un teorema che, anzi, di una definizione, poi vedremo il teorema più avanti associato, che è il cosiddetto prodotto di convoluzione di due funzioni. Io ho una funzione f di x e una funzione g di x, non so se il corso di metodi avrete fatto la convoluzione. La convoluzione di due funzioni, f di x e g di x normalmente si indica con un prodotto che è un dato scritto come un asterisco, ma questa è solo la notazione che si utilizza. Non è niente di speciale questo prodotto di convoluzione, è semplicemente un integrale fatto in questo modo, quindi la convoluzione di f di x con g di x è un integrale tra meno infinito e più infinito di f di y per g di x meno y tutto integrato in dy. e questo anche ve lo descrivo nelle dispense questa cosa è descritta diciamo con un certo dettaglio, quindi chi voglia approfondire si è incuriosito da queste cose e può andarsene a vedere lì oppure le avete già addirittura fatte da qualche altra parte. il punto essenziale per cui ci serve la convoluzione è che se prendiamo una data funzione f di x e la andiamo a convolvere con la funzione delta in questo caso la delta di x meno a cioè la delta centrata nel punto a e andate a sostituire al posto della g di x andate a sostituire la funzione delta di x meno a in questo integrale di convoluzione e considerate appunto quelle che sono le proprietà della funzione delta cioè che è 0 ovunque tranne il punto in cui il suo argomento vale 0 quindi questo integrale qui ha tutti i contributi nulli che vengono dalla delta tranne il punto in cui di x anzi di y in cui x meno a meno y sia uguale a 0 e quel che viene fuori è che avete come risultato f di x meno a cioè la convoluzione della funzione f di x con una delta centrata in a vi ha traslato la funzione nel punto a quindi ha preso la vostra f di x e ve l'ha traslata di una quantità a per cui la vostra f di x diventa f di x meno x a questa f di x meno x a non è meno x a f di x meno a è proprio la trasposizione la traslazione della funzione f di x di una certa quantità a e questo lo avete ottenuto convolvendo la vostra f di x con la funzione delta centrata in x meno a allora cosa possiamo fare possiamo prendere la rho di c questo c minuscolo sta in realtà non l'ho detto prima sta per cella elementare potreste prendere la vostra densità elettronica della cella elementare cioè quella che costruite come sommatoria delle densità elettroniche di tutti gli atomi che compongono la cella che sono il numero finito se avete 10 atomi della cella elementare avrete una sommatoria su 10 densità elettroniche di fatto quindi una funzione trattabile una funzione finita e la andate a convolvere con la funzione reticolo perché questo cosa fa? questa ogni delta che compone la funzione reticolo traslerà la nostra la vostra rho di c la vostra densità elettronica della cella elementare in corrispondenza di un nodo del reticolo e voi sapete che ogni nodo del reticolo è associato ad una cella elementare per le celle primitive c'è proprio una corrispondenza uno a uno ogni nodo del reticolo corrisponde a una cella e viceversa quindi se noi andiamo a convolvere la densità elettronica con una delta centrata su un nodo del reticolo noi prendiamo la densità elettronica della cella e la trasliamo in corrispondenza del nodo del reticolo che rappresenta una certa cella in un dato punto dello spazio se la convolviamo con l'intera funzione reticolo questo significa prendere la nostra densità elettronica della cella e trasportarla in corrispondenza di tutti i nodi del reticolo e quindi avremo nient'altro che la densità elettronica del nostro cristallo infinito in questo caso monodimensionale quindi la nostra densità elettronica del cristallo monodimensionale che la possiamo descrivere come sommatoria su tutti i nodi del reticolo di ρ di c di x meno na è appunto la densità elettronica del cristallo infinito del nostro cristallo monodimensionale infinito e questa appunto la costruiamo facendo la convoluzione della densità elettronica della cella elementare con la funzione reticolo adesso adesso quello che dobbiamo fare è la trasformata di Fourier di questo oggetto qui cioè la trasformata di Fourier della densità elettronica del cristallo infinito per sapere come l'onda incidente sul cristallo viene diffusa o meglio poi diremo diffratta in una data direzione k quindi dobbiamo fare la trasformata di Fourier di questa sommatoria il che significa fare la trasformata di Fourier di questo prodotto di convoluzione quindi la trasformata di Fourier del prodotto di convoluzione della densità elettronica della cella elementare è convoluta con la trasformata di Fourier della funzione reticolo e qui entra il teorema della convoluzione il teorema della convoluzione che nelle dispense vi ho dimostrato ovviamente voi appunto non siete tenuti a studiare nel teorema nella sua dimostrazione come vi dicevo non siete tenuti a farlo per l'esame però insomma se invece vi interessa ve lo andate a vedere il teorema della convoluzione ci dice che la trasformata di Fourier del prodotto di convoluzione di due funzioni questa h di x è il prodotto di convoluzione della f di x per la g di x è il prodotto ordinario semplice prodotto tra funzioni delle trasformate di Fourier delle due funzioni quindi la trasformata di Fourier di h di x c'è la trasformata di Fourier della convoluzione di f di x per g di x è proprio il prodotto delle trasformate di Fourier della f di x per la g di x per la trasformata di Fourier della g di x allora dovremo fare la trasformata di Fourier della f di x dove la f di x nel nostro caso sarà proprio la trasformata di Fourier della funzione della cella elementare ma questa l'abbiamo già fatta e questa funzione qui questa sarà la trasformata di Fourier della densità elettronica della cella elementare questa dovremo andarla a moltiplicare per la trasformata di Fourier della funzione reticolo quindi dobbiamo essere in grado di fare la trasformata di Fourier di questo oggetto qui quindi quello che ci interessa è il passaggio che ho chiamato passaggio 1 fa la trasformata di Fourier della funzione reticolo che non è una funzione poi così complicata però insomma andiamo semplicemente a prendere la nostra ldx ne la moltiplichiamo per e elevato a meno 2 pi greco i kx e poi facciamo integrale su tutto lo spazio ma questa lx non è nient'altro che una sommatoria di delta di Dirac e quindi abbiamo sommatoria tra meno infinito e infinito di questo numero n dell'integrale tra meno infinito e infinito di queste funzioni delta di x meno n a per i termini esponenziali ma ciascuno di questi integrali in realtà è molto semplice da fare perché questa delta di x meno n a vale sempre 0 tranne nel punto per cui x uguale a n a quindi tutto ciò che rimane nel calcolare in un dato integrale è un termine del tipo esponenziale in cui al posto di x ci andate a mettere semplicemente n a perché tutti gli altri contributi per x differenti da n a sono 0 perché la delta di Dirac va a 0 in tutti gli altri punti in cui appunto x non sia uguale a n a quindi avete una sommatoria tra meno infinito e infinito per n che vada meno infinito e infinito che vi ritrovate qui per e elevato a meno 2 pi greco i n k a quindi questo non è difficile da capire cioè se uno sa che la delta di Dirac come si comporta che cos'è la delta di Dirac come è definita non è difficile diciamo fare la trasformata di Fourier della funzione di reticolo ed esprimerla in questo modo quello che è un pochettino più complesso è adesso manipolare questo oggetto cos'è questa roba qui una sommatoria infinita di termini esponenziali con quella faccia lì non è che ci ispiri tanta fiducia come la trattiamo un affare di questo genere beh qui vado un po' veloce però appunto sulle dispense la cosa è trattata in dettaglio cioè spiegata esattamente così però mettendoci un po' di parole allora io prendo questa sommatoria e comincio a spezzarla in due termini in cui l'argomento della sommatoria che ho indicato con questi puntini esattamente lo stesso che ho scritto qui ma vedete che è una sommatoria tra meno infinito e infinito la spezzo in due parti una sommatoria che va da 0 a infinito per n e un'altra parte che la sommatoria tra meno infinito e meno 1 quindi andando da 0 a infinito e da meno infinito a meno 1 io ricopro tutti i termini che ho nella sommatoria da meno infinito a infinito quindi considero queste due sommatorie in questa seconda sommatoria vado a fare la sostituzione da n n è semplicemente un indice di sommatoria quindi posso dargli i valori che voglio posso anche cambiarlo di segno e quindi passare da n che va da meno infinito a meno 1 a n che va da 1 a infinito cambio di segno all'indice n a patto ovviamente che cambi il segno dell'indice n anche nel termine esponenziale quindi faccio la sostituzione di e elevato a meno 2 pi greco i e elevato a meno 2 pi greco i n k vado a mettere n al posto di vado a mettere meno n al posto di n e quindi otterrò dei termini esponenziali con esponente positivo avendo cambiato n con meno n quindi passo da 1 a infinito e questa sommatoria parte da 1 non da 0 ci piacerebbe farla partire da 0 però se metto n uguale 0 qui dentro in questa sommatoria che l'n sia positivo o negativo non fa nessuna differenza ottengo semplicemente 1 il termine esponenziale con n uguale 0 vale semplicemente 1 sarebbe elevato a 0 che vale 1 allora cosa posso fare posso aggiungere il termine che non è n uguale 0 in questa sommatoria e poi toglierlo dopo quindi io ho aggiunto di fatto 1 e ho tolto 1 quindi vado a prendere tutto questo è uguale a questa prima sommatoria scritta qui questa seconda sommatoria in cui io ho esteso anche al termine n uguale 0 e poi gli ho tolto 1 per tener conto del fatto che ho aggiunto un termine nella sommatoria adesso scriviamo di maniera esplicita queste sommatorie al posto dei puntini vado a mettere quello che rappresentano quindi ho sommatoria che va dal 0 infinito di e elevato a meno 2 pi greco i eccetera sommatoria per n che vale a 0 da 0 infinito di e elevato a 2 pi greco n eccetera ho cambiato il segno di n da più n a meno n quindi col segno meno davanti diventa un più meno 1 che questo termine è scritto qui e adesso queste sommatorie in realtà le so trattare perché sono delle serie geometriche cioè sono vedete che sono degli esponenziali dove c'è un indice n un numero intero e posso dire che questo è elevato a meno 2 pi greco i n k non è nient'altro che è elevato a meno 2 pi greco i k è elevato ad n e la stessa cosa vale per la seconda sommatoria quindi ho delle serie geometriche e queste serie geometriche noi le sappiamo sommare esiste il modo di sommare le serie geometriche semplicemente ciascuna di queste sommatorie vale 1 fratto 1 meno ciò che è l'argomento della vostra serie geometrica questo non so se l'avete fatto da qualche parte a matematica dove sono tipici argomenti da matematica 1 ma questa la trovate anche su internet oppure se volete se mi chiedete io vi do del materiale anche su questa faccenda stavo pensando se vi avevo già passato delle dispense no su questa parte no ci sono delle dispense di meccanica quantistica che io ho scritto che da una qualche parte discutono della serie geometrica però insomma non ci interessa più di tanto diciamo che queste sono è una cosa standard che i matematici sanno fare da decenni e decenni e decenni e quindi non è un problema sommare queste serie e ottenere queste espressioni qui adesso questa espressione la possiamo anche andare a sommare abbiamo due frazioni semplicemente ne facciamo la somma tenuto conto anche della presenza del meno 1 e con l'unica avvertenza per adesso di tenerci lontani dei valori per cui i denominatori vadano a 0 quindi supponiamo che elevato a 2 pi greco i k o elevato a meno 2 pi greco k sia diverso da 0 perché nel caso in cui questi vanno a 0 questi due termini vanno infinito ma se ci teniamo lontani da quei valori di esponenti che azzerino il vostro denominatore allora questa sommatoria va esattamente a 0 cioè questa trasformata di Fourier ricordiamoci cos'è questa è la trasformata di Fourier della funzione reticola e questa lk è sempre nulla perché diciamo questa sommatoria quando i denominatori non sono uguali a 0 è sempre 0 e quindi è sempre nulla tranne appunto nei punti in cui questi denominatori vadano a 0 e questa funzione lk quindi va infinito ma dove sono i punti in cui questi denominatori vanno a 0 sono proprio i punti in cui i termini esponenziali vadano a 1 i termini in cui i termini esponenziali vanno a 1 e questo succede se andate a esprimere questi usando le funzioni di Eulero le forme di Eulero per calcolare questi esponenziali sono i punti sono i punti in cui k per a ricordatevi cos'è k è il modulo del vettore che descrive il vettore d'onda quindi quello che ha il modulo 1 su lambda a è il vettore del vostro reticolo è il modulo del vettore del vostro reticolo il parametro di cera del vostro reticolo quando k è un numero intero j allora sia l'esponenziale col segno meno davanti quindi 2 pi greco i k che è quello col segno più davanti vanno a 0 anzi gli esponenziali vanno a 1 e quindi la funzione lk va a infinito tutte le volte che il prodotto k sia un numero intero quindi è un qualche cosa che la nostra lk che è 0 sempre tranne nei punti in cui k passi è uguale a j e quindi questa che cos'è è una funzione reticolo a sua volta ma è una funzione reticolo reciproco il reticolo reciproco vi ricordate qui siamo nel caso monodimensionale che cos'è è un reticolo nel caso monodimensionale i cui nodi hanno una spaziatura una distanza uno dall'altro che è il reciproco del parametro di cella è quello che abbiamo chiamato a star il modulo di a star nel caso monodimensionale è esattamente uguale a uno su a quindi questo perché perché appunto dire che k è un numero intero j vuol dire che k è uguale a j su a dove j è semplicemente un numero intero ma uno su a è a star nella notazione che abbiamo usato noi per il reciproco uno su a è uguale a star quindi k è uguale a j a star e allora questa funzione lk va a zero sempre tranne i punti in cui k sia uguale a j a star perché dire che k è uguale a j a star vuol proprio dire che k per a è uguale a j e quindi possiamo descrivere questa lk come una sommatoria tra meno infinito e infinito su un terzo indice j intero di funzioni delta centrate sui nodi del reticolo reciproco e vedete che ci siamo trasportati nel in realtà non tanto sul reticolo reciproco dal punto di vista aritmetico diciamo sul reticolo reciproco ma in realtà siamo nello spazio duale questi vettori k questi punti k sono proprio i vettori duali ma che sono in corrispondenza isomorfa come abbiamo discusso tante volte in passato con punti nello spazio diretto tramite l'isomorfismo che esiste tra lo spazio duale e lo spazio diverso e lo spazio diretto quindi questa lk così come la f di k in realtà è una funzione che è descritta nel duale ma adesso non ci andiamo a curare di quell'aspetto che compita semplicemente la discussione abbiamo una certa funzione che dipende da k e che è una sommatoria di delta di Dirac ciascuna centrata sui nodi del reticolo reciproco e adesso questa ldk la dobbiamo andare a moltiplicare con la rho di c con la non con la rho di c con la trasformata di furia della rho di c cioè con la trasformata di furia della densità elettronica della cella cristallina allora tornando un attimino su questa ldk il fatto che questa sia una serie di delta di Dirac lo potete vedere anche graficamente calcolando numericamente la vostra funzione facendo variare n questo n della vostra sommatoria tra un certo meno nmax e un nmax quindi per esempio se fate un nmax uguale 4 e andate a calcolare questa sommatoria come in funzione di un argomento che è semplicemente l'argomento dell'esponente 2π ka e ottenete una funzione oscillante dove avete dei picchi intermedi bassi tra picchi principali più elevati e mano a mano che aumentate il valore di nmax ricordate che virtualmente questa lk va da espressa in termini di una sommatoria che va da meno infinito a infinito se aumentate il valore di nmax il valore assoluto quindi di nmax e passate da nmax uguale a 4 nmax uguale a 10 fino a nmax uguale a 100 ottenete proprio una funzione di questo genere ecco questa è la vostra funzione reticolo vedete questi spikes che ha queste funzioni molto molto strette e poi nell'intorno la funzione è essenzialmente 0 e qui invece vale 100 in questa scala e in questi corrispondenze di questi punti questi 2π ka che valgono diciamo i valori che poi andate a leggere sull'asse delle ascisse corrispondono proprio ai nodi del reticolo reciproco quindi qui c'è un nodo del reticolo reciproco qui c'è un altro qui c'è un altro qui c'è un altro qui c'è un altro eccetera eccetera quindi questa è una dimostrazione grafica di quello che io ho discusso analiticamente andando a fare delle considerazioni sulla sulla sull'analisi di queste funzioni qui scritte in maniera esplicita anche questo diciamo è riportato nelle dispense allora andiamo a fare la trasformata di Fourier vi ho detto del cristallo infinito questa è la trasformata di Fourier del vostro prodotto di convoluzione di questa RODC per la funzione reticolo questo sarà per il teorema della convoluzione il prodotto ordinario delle trasformate di Fourier della cella elementare del cristallo per la trasformata di Fourier della funzione reticolo ovvero il prodotto ordinario della trasformata di Fourier della destella elettronica della cella elementare moltiplicata non convoluta ma semplicemente moltiplicata in modo ordinario per la funzione reticolo reciproco quindi la trasformata di Fourier della funzione reticolo adesso se sfruttate il fatto questa identità che coinvolge la funzione delta per cui una funzione f di x moltiplicata in modo ordinario per la funzione delta di x meno a equivale esattamente a f di a per delta di x meno a questo si vede facilmente questa f di x per delta di x meno a è sempre zero strane nel punto in cui x è uguale a e quindi se fate questo prodotto avete semplicemente f di a a sinistra della segna di uguaglianza avete f di a perché appunto delta di x meno a o avete zero o avete f di a perché è delta di x meno a è sempre zero tranne nel punto x uguale a a destra avete esattamente la stessa cosa questo oggetto è zero quando x è diverso da o f di a quando x uguale ad a questo f di a è una costante che va a moltiplicare una funzione è una funzione che è zero sempre tranne del punto x uguale ad a allora se sfruttate questa identità e andate a scrivere quindi la vostra f di k come prodotto ordinario della vostra fc di k per la funzione l di k che è una funzione di sommatoria di delta di dirac e fate filtrare la vostra f di c all'interno della sommatoria la moltiplicate in modo ordinario per ciascuna delta e quel che ottenete è una fc di j a star per delta k delta di k meno j a star questo che ottenete è il fattore di struttura questo è una o meglio il fattore di struttura è questa grandezza qui questo diciamo è la descrizione dell'onda diffusa anzi diciamo adesso propriamente diffratta cioè diffusa non in tutte le direzioni ma soltanto in certe direzioni specifiche questa è appunto l'espressione dell'onda diffratta dall'intero cristallo o meglio l'insieme di tutte le onde diffratte dall'intero cristallo ciascuna che viaggia in una certa direzione che è data dalla delta di dirac dalla delta di dirac in pratica cioè io posso avere una radiazione diffratta dal nostro cristallo monodimensionale infinito solo nei casi in cui il k il vettore d'onda uscente dal cristallo sia stiamo parlando di un caso monodimensionale ma sia corrispondente ad un numero intero moltiplicato per a star c'è il k corrisponda di fatto a un nodo del reticolo reciproco quindi i nodi del reticolo reciproco questo ve l'avevo già accennato quando facevamo il reticolo reciproco come ve l'avevo accennato per motivarvi allo studio del reticolo reciproco abbiamo detto che il reticolo reciproco era importante perché ogni punto descriveva dei piani del cristallo eccetera eccetera però vi avevo detto che in realtà l'utilizzo principale che poi se ne faceva in cristallografia e nella fisica dello stato solido in generale ma soprattutto in cristallografia era il fatto che veniva utilizzato per descrivere la diffrazione e qui lo vediamo all'opera nel senso che effettivamente vediamo che questa nostra onda diffratta dal cristallo sarà diffratta con un'intensità non nulla cioè questo è appunto l'onda quindi questa onda avrà ampiezza non nulla l'onda diffratta solo nel caso in cui k quindi l'argomento della nostra della nostra funzione sia uguale esattamente ad un nodo del reticolo reciproco in tutti gli altri casi in cui k non corrisponde al nodo del reticolo reciproco la nostra onda avrà un'ampiezza esattamente nulla perciò qui dentro c'è un'espressione completa che vi descrive sia la geometria della diffrazione e la geometria della diffrazione e la geometria di fatto dettata dal reticolo reciproco FIA vi descrive con questi fattori moltiplicativi delle delta che compaiono qui le ampiezze delle onde diffratte nelle direzioni in cui le intensità delle onde non siano nulle cioè le ampiezze delle onde diffratte nelle direzioni corrispondenti ai nodi del reticolo reciproco quindi se nella nostra f di c di k andiamo a introdurre al posto di k j a star cioè il valore per cui k per cui possiamo avere diffrazione avete questo oggetto questo che ho chiamato f h k l adesso poi spieghiamo perché h k l è proprio questa sommatoria qui cioè se voi andate a prendere la vostra f di c dove l'ho scritta questa f c di k questo oggetto qui al posto di k ci mettete ci mettete un nodo del reticolo reciproco quindi il k sarà corrispondente un certo nodo del reticolo reciproco quindi ce lo mettete qui dentro ma ce lo mettete anche in questa espressione qui quindi nell'esponenziale al posto di k ci mettete un nodo del reticolo reciproco facciamo il passaggio al caso tridimensionale quindi passiamo da questa espressione che ho scritto per il modo dimensionale al tridimensionale e allora cosa salta fuori che un nodo del reticolo reciproco sarà descritto da coordinate h k l che sono proprio le componenti del vettore del reticolo reciproco rispetto alla base reciproca quindi k sarà un vettore del tipo h star più k b star più lc star e quindi questi h k l sono proprio le componenti adesso li vediamo con le componenti di ogni vettore del reticolo di ogni vettore che identifica un nodo del reticolo reciproco quindi ogni vettore k che identificano del reticolo reciproco avrà componenti hkl rispetto ai vettori della base reciproca e in questi f di k c'erano i prodotti scalari dei vettori k per i vettori r che descrivevano le posizioni degli atomi in questi f se vi ricordate non vi ricordate ma perché non va indietro questa ok si un po' lento questi f vedete avete una sommatoria su tutti gli atomi del cristallo di questi fattori preesponenziali di questi f queste ampiezze delle onde diffuse per questi termini esponenziali che contengono questi vettori rm che descrivono le coordinate degli atomi della cella elementare per il vettore k allora questo vettore k lo esprimiamo in termini di vettori reciproci quindi dei vettori della base reciproca quindi come ho già detto h star più k b star più l c star questi xm ym zm sono le coordinate di ogni atomo nella cella elementare l'atomo indicizzato dall'indice m che diciamo definiscono anche le componenti di ogni vettore che identifica l'atomo nella cella quindi sarà il vettore diciamo l'atomo m nella cella sarà l'atomo che ha coordinate xm ym zm che è identificato con l'origine dal vettore che sarà xm a più ym b più zm c e quando voi andate a moltiplicare quel vettore per il vettore k sapendo che quali sono le relazioni tra star b star c star e abc avete semplicemente che quel prodotto scalare diventa hxm più k ym più lzm allora questo è il fattore di struttura di tutto questo discorso quello che voi dovete ricordare ai fini dell'esame e ai fini dei corsi successivi che potrete fare in cui si parla di diffrazione e questo il fattore di struttura che cos'è allora che cos'è banalmente mi dite che è l'onda diffratta nella direzione k dove appunto k è espresso attraverso le coordinate hkl ovvero anche diciamo le componenti del vettore d'onda rispetto alla base reciproca quindi l'onda diffratta nella direzione identificata dal vettore k poi descritto da questi tre numeri interi hkl ed è costruito in questo modo è una sommatoria su tutti gli atomi della celle elementare di un termine che esprime l'ampiezza dell'onda diffusa da ogni atomo nella celle elementare moltiplicato per un termine esponenziale che contiene le coordinate di ogni atomo della cella oltre agli indici hkl quindi rappresenta un'onda diffratta nella direzione k poi poiché questi hkl abbiamo visto rappresentano anche sono anche gli indici di miller della famiglia di piani rappresentata dal vettore k diciamo anche che il fattore di struttura corrisponde all'onda diffratta dalla famiglia di piani hkl e questo è importante ricordarlo perché come la prossima volta vedremo esiste un'interpretazione della geometria della diffrazione che è stata fatta dai bregg padre e figlio che consideravano la diffrazione come un fenomeno legato a una specie di riflessione particolare dei raggi x da parte delle famiglie di piani dei cristalli che non è una cosa corretta dal punto di vista fisico perché la diffrazione non ha niente a che vedere con un fenomeno di riflessione e perché le famiglie di piani sono un costrutto che ci immaginiamo noi ma che non esistono sul serio ma che per bregg invece esistevano e bregg comunque ci ha preso il Nobel è arrivato poi ad interpretare la geometria della diffrazione sulla base dell'equazione che lui ha costruito con il suo modello che aveva in testa che poi è stato un passo avanti notevole della cristallografia e quella che poi ha permesso di cominciare a risolvere le strutture cristalline e quindi poi diciamo useremo e vi farò vedere quella che è l'interpretazione di bregg del fenomeno della diffrazione in cui lui mette in ballo non tanto i vettori k del reciproco quanto le famiglie di piani con indici di 1000 dell'HKL che però sono proprio le famiglie di piani che sono rappresentate da vettori k del reciproco e vi ricordate ciascun vettore k del reciproco è ortogonale a una certa famiglia di piani HKL ed ha un modulo che è il reciproco della distanza interplanare questo perché avevo dedicato tanto tempo un certo numero di lezioni al discorso dei piani cristallografici delle distanze interplanari l'avevo fatto perché poi saremo arrivati qui o meglio saremo arrivati alla settimana prossima all'ultima lezione in cui vediamo quella che è l'interpretazione di bregg della teoria della diffrazione però quella poi ve la chiederò all'esame quindi la teoria della diffrazione alla bregg invece sarà una cosa su cui non transigo quindi ve la chiederò con un certo dettaglio invece di tutta questa parte qui quello che vi chiedo è cos'è il fattore di struttura risposta è l'onda diffratta in una data direzione K che corrisponde a un'onda del reticolo reciproco diffratta dal parte del nostro cristallo e che è data semplicemente da una sommatoria è un'onda risultante dall'interferenza di tutte le onde diffuse dagli attori che compongono la cera elementare ciascuna di queste onde avrà una certa ampiezza e una certa fase che è data da questo termine esponenziale perché è importante il fattore di struttura beh è importante perché da una parte ci esprime l'onda e quindi il suo modulo quadro ci darà l'intensità con cui l'onda viene diffratta in una data direzione intensità che dipenderà però da HKL cioè dalla direzione dello spazio che stiamo considerando e dipenderà anche dalle coordinate degli atomi che compongono la cera elementare per cui se noi raccogliamo le intensità diffratte in tutte le possibili direzioni ammesse dalla geometria della diffrazione che di fatto è la geometria del reticolo del reticolo reciproco quindi ogni nodo del reticolo reciproco sarà associato a un'onda diffratta noi possiamo andare a raccogliere le onde diffratte da un gran numero di nodi del reticolo reciproco o meglio da un gran numero di direzioni corrispondenti ai nodi del reticolo reciproco raccogliamo quindi sperimentalmente misuriamo le intensità cioè il modo di quadri di questi oggetti qui e poi le sfruttiamo questa intensità per andare a tirar fuori le coordinate degli atomi nella cella quindi facciamo ciò che una lente farebbe di per sé la lente cosa fa prende questi insieme di f di queste onde diffratte ne fa l'antitrasformata di Fourier di fatto compone l'immagine sul piano immagine della lente a partire da ciò che ha sul piano focale sul piano focale la lente avrebbe esattamente la trasformata di Fourier della densità elettronica del cristallo cioè avrebbe il reticolo reciproco e ogni nodo del reticolo reciproco sarebbe pesato da un termine che dà l'intensità della diffrazione in corrispondenza di quel nodo del reticolo reciproco quindi avrete una cosa di questo genere questo è ciò che accade per esempio nel caso del microscopio elettronico questo non usiamo raggi X ma usiamo fasci elettronici quello che abbiamo qui in questa immagine è l'immagine di ciò che sta sul piano focale di una lente del microscopio elettronico che focalizza i fasci elettronici e ogni punto ogni nodo di questo che vedete qui è un nodo del reticolo reciproco perché è proprio la trasformata di Fourier il reticolo reciproco del reticolo diretto e ogni nodo ha un'intensità differente questa intensità è proprio data dal fattore di struttura che va che compare qui dentro che va a moltiplicare ciascun nodo del reticolo reciproco quindi voi sul piano focale della lente di un microscopio elettronico vedete lo spazio reciproco anzi meglio come vi ho già detto più volte vedete lo spazio duale però adesso non entriamo di nuovo su quella faccenda ve l'avevo già raccontata con un certo dettaglio quindi quello che fa il microscopio elettronico è raccoglie la diffrazione e poi portare queste onde che vengono diffrate ciascuna in una certa direzione a interferire tra loro per riformare l'immagine sul piano immagine della lente obiettivo del microscopio elettronico che poi è accoppiata con le lenti di ingrandimento che hanno la funzione di oculare di un normale microscopio ottico quindi il microscopio elettronico poiché ha a che fare con gli elettroni riesce a focalizzarli e forma l'immagine diretta noi con i raggi x non siamo in grado di avere dei microscopi però possiamo raccogliere comunque questa intensità poi le introduciamo all'interno di espressioni matematiche semplicemente di questo genere invertiamo le equazioni in un modo non semplicissimo ma comunque sappiamo farlo sono procedure standardizzate e calcoliamo quindi arriviamo a calcolare quelle che sono le posizioni dei nuclei degli atomi rappresentati da queste coordinate e in questo modo andiamo a risolvere la struttura qui vi dicevo ciò che fa un microscopio elettronico per esempio prende questa serie di fasci diffratti sul piano focale della lente obiettivo li fa interferire e costruisce questa che è un'immagine a scala atomica del vostro cristallo che ha prodotto questa diffrazione ecco noi con i raggi x invece prendiamo con dei detector prendiamo l'immagine della diffrazione e calcoliamo l'immagine in questo modo ovvero andiamo a determinare quali sono le posizioni degli atomi che hanno prodotto la diffrazione va bene mi fermo qui per oggi ho fatto tutto quello che volevo che mi ero riproposto di fare e la prossima volta invece andiamo a ragionare alla breg quindi se non ci sono domande vi saluto ci si vede martedì ricordatevi non lunedì ma martedì mattina grazie